Cresce il circolo tennis Roseto che si dota del primo campo coperto in Terra Rossa per la struttura di via Fonte dell'Olmo. Si tratta di un punto di partenza e non certo d'arrivo visto che è già partito, il progetto per la nascita di un clubhouse. Si punta anche ad arrivare fuori regione all'estero con il coinvolgimento di diversi tour operator. Erano 30 anni che i rosetani aspettavano questo campo coperto in Terra e finalmente abbiamo coronato un sogno. Con questa nuova struttura adesso punteremo ancora di più all'attività sportiva perché durante l'inverno eravamo troppo penalizzati in quanto i due campi non bastavano solo per far giocare sia i soci che l'attività istituzionale che abbiamo delle scuole tennis. Chiaramente noi non ci fermiamo mai, abbiamo fatto questa bella opera e adesso subito pensiamo a realizzare una nuova opera, una clubhouse che dovrà diventare una casa dei rosetani dove tutti potranno venire. Col campo era limitato solo ai praticanti del tennis. Con questa struttura possiamo aprire a tutti i rosetani, a tutte le attività sportive, politiche, tutte quelle sociali, possiamo allargare a tutte le categorie con questa nuova struttura che abbiamo pensato qui dentro al circolo. Presidente, dopo 27 anni il tennis club Roseto punta a diventare un punto di riferimento per tutti i rosetani ma non solo. Con queste nuove strutture puntiamo veramente a diventare tra i circoli più belli d'Abruzzo. Dirò di più che stiamo facendo delle iniziative andando oltre. Quest'anno abbiamo preso contatto con dei tour operator di Germania, Austria e Svizzera per fare qua proprio degli stage settimanali e portare gente proprio. Cominciamo a fare pure un po' di attività turistica diciamo, oltre all'attività sportiva. Grazie. Grazie.